vi presentiamo un nuovo libro un romanzo si chiama ti guardo e di marco sessi e vanni cigarini un romanzo che vede come protagonisti due giovani amici mattia e vanni incontriamo l'autore che marco sessi ciao marco benvenuto ciao buongiorno a tutti grazie per l'invito ti guardo ne vogliamo parlare marco certo questo romanzo parla di una profonda amicizia che punti due protagonisti mattia e vanni vivono nello stesso paesino qui nella bassa padana e praticamente tutta la loro vita si dipana nella loro frazione e li accompagnerà fino alla fine insomma della loro storia quindi sarà una storia completamente d'amicizia dove uno dei due protagonisti avrà comunque un problema mentale e da qui insomma parte tutta la storia di sostegno che entrambi si daranno insomma il titolo ti guardo e nasce da una canzone in quanto vanni è un cantautore e scrisse appunto insieme al suo amico alcune canzoni tra cui appunto ti guardo che racconta comunque della loro storia e da qui nasce l'idea di scrivere un romanzo e da qui prende il titolo del romanzo mattia riesce poi a superare la sua crisi grazie a vanni beh in parte sicuramente riuscirà a dare una svolta alla propria vita e comunque sarà un aiuto reciproco perché comunque anche nelle difficoltà mattia riesce a dare qualcosa all'amico vanni poi chiaramente vabbè non non raccontiamo la fine del romanzo però insomma poi avrà un suo un suo evento che lo teniamo per chi vorrà leggere il romanzo chi sono i due autori di questo romanzo marco sessi e vanni cicarini allora io abito correggio come vanni in provincia di reggio miglia io scrivo per come hobby questo è il nono romanzo e mentre vanni come hobby diciamo fa il canto d'autore ha una sua band che si chiama katanka mani portano in giro canzoni di cantautori ma anche le sue canzoni infatti ha pubblicato tre cd vanni è un po il vanni del romanzo è stata caso questa no 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 è lui è lui è lui uno dei due protagonisti cioè non non è un caso insomma è proprio lui uno uno dei due protagonisti quindi vanni con le sue canzoni esatto vanni con le sue canzoni e ha ispirato questo romanzo e una peculiarità del romanzo si trovano dei queer code che chiaramente inquadrandoli si potrebbero ascoltare le canzoni che accompagnano il romanzo perché comunque tre o quattro canzoni sono inserite come testo anche nel romanzo ma si possono anche ascoltare e mattia e marco sessi no no marco sessi è solo è dato un contributo per la scrittura del romanzo ma no mattia non non c'entra nulla con me marco sessi anche sportivo leggero sì sì ho cercato insomma tante vie ho giocato tennis calcio corsi in bicicletta però insomma i risultati sono sempre stati abbastanza modesti quindi insomma dopo ho dato sfogo alla alla voglia di scrivere in quanto sono si dice un lettore forte perché comunque leggo più di 20 romanzi all'anno quindi insomma dopo la lettura un po mi è venuta la voglia di scrivere insomma questo è il nono insomma quindi insomma qualcosina ho scritto anch'io vogliamo dare tutti i contatti e anche dove e come comprare il libro certamente allora ti guardo la casa editrice si chiama Bertoni Editore di Perugia e si può acquistare in qualsiasi libreria d'italia su tutti gli store che trovate online e c'è anche l'ebook quindi insomma l'ampia la gamma è ampia per l'acquisto quindi insomma non non c'è nessun problema nel trovarlo sin libreria che sugli store online. Marco Sessi e Vanni Cigliarini il loro romanzo ti guardo grazie Marco ci sentiamo la prossima opera intanto invito tutti gli ascoltatori a leggere questo ti guardo grazie buon lavoro e buona giornata grazie a voi per l'invito grazie a tutti buongiorno grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti